Ehi Steph, finalmente siamo in un gioco in cui io mi sento a casa, sei com'è nella prigione e potrò insegnarti la vita da carcerato Ma non mi interessa, grazie Come no? Devo restare solo 5 giorni qui dentro, quindi... Aia, Fere! Cosa hai detto? Cosa hai detto? No, no, mi interessa, mi interessa Ok Mi interessa Sono entrato con un bandito Arrivo, 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 arrivo Sono entrato con un bandito dentro la banca, sta aprendo le porte, non so dove sta andando ma sto per appinare la banca Bravissimo Eugenia de de roberi Ok, 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 è suonato l'allarme, è suonato l'allarme, non so cosa devo fare C'è un parkour E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Steph, e che stai ci chiamando Roblox E oggi siamo qui con Jail Break, ovvero la mappa più giocata del momento in assoluto È abbastanza simile a Prison Life, ma ci sono molte più cose da fare Esattamente Ha fatto il record di sempre di Roblox con 75.000 persone in diretta che giocavano Record assoluto, quindi deve essere per forza bellissima, la proviamo per la prima volta insieme a voi Questi giorni un po' troppe cose sulla prigione, però vabbè dai, è andata così Fere Niki è felice, quindi va bene così Poi dico, ci è capitata cos'è a pennello, cosa pretendete che io non la giochi, ma scherziamo Figuriamoci Qua che cos'è, la mensa? Qua vengono a trovarci la tua famiglia o la Fere, è una famiglia tu? No No L'unico che mi viene a trovare qui con me, signor maialino Quindi io non ricevo mai visite, poi sto bene qua, quindi perché la gente dovrebbe venire a trovarmi Lo so, io stavo giusto chiedendo Che poi, capito, se mi vengono a trovare e vedono che sto troppo bene, vogliono venire qui anche loro e mi disturbano Ah, certo Quindi preferisco a stare per i fatti miei Guarda! È appena venuto a trovarti un consolino Fere? Oh mio Dio Dov'è? Fere Dov'è? Fere Ma perché non c'è la mia faccia qui? Questo è il tuo obiettivo di oggi, eh? Sì, sì, finire tra i ricercati Proprio qua la mia faccia gigante Gigante Enorme Oh mio Dio È il tuo obiettivo, Fere Probabilmente quando evadi diventi ricercato, quindi questo è il mio obiettivo di oggi Ok, ok, allora, qua dove si mangia? Non so se possiamo mangiare per davvero Andiamo a vedere Anche perché non c'è nessuno che lavora la mensa Scusate, abbiamo fame? Dei distributori, secondo te, funzionano? Ok, no, non abbiamo monetina Non funzionano Non funzionano Abbiamo questo problema Io ero visto nei cestini Qua c'è fame Non ci danno nulla Però no, neanche i cestini mi danno niente Mi dispiace Ok, ok Beh, se nessuno ha mangiato, nessuno ha buttato nulla nei cestini C'è un senso in tutto ciò Eh, sì, sì Peccato, avrei voluto fare uno spuntino ma non ce l'ho dato Vabbè, allora andiamo da qualche altra parte Non è una bella prigione questa, insomma Vede? Guarda che bella la mia cella Vieni, vieni, vieni Oh, bellissima, bellissima Ti piace? Ti puoi sedere, puoi fare un sacco di cose L'ho arredata io, eh Sicuramente l'ho arredata Sì, sì, sì Cosa c'è lì sotto? Dov'è? Allora, vedi? Fede, è un gabinetto No, i cassetti sotto il letto Cioè? Li vedi? Ah Non capisci nulla, guà Che cavolo mi fai il gabinetto? Guarda Pensavo stessi guardando il gabinetto Probabilmente qua, nascondi Ci nascondi gli oggetti che trovi in giro Che rubi E poi guarda, ti puoi anche caricare Stile di escapist Ma Fede Si dorme al contrario normalmente No, io dormo a pancia ingiusto benissimo così Ciao, buonanotte Ciao Fede, a domani Anche se quella è la mia cella Ciao No, ormai me la tengo io Ciao Fede Cerchiamo di emozionare il poliziotto Arrivo Ma vedi che io non gli faccio danno con i miei pugni Guarda Vai, brava Aspetta, aspetta Brava Ce la facciamo Ce la facciamo Sì, sì, sì Ok, ho preso la card Allora, allora, allora Sì, seguimi, seguimi, seguimi Ok, ho preso la pistola io Allora, entriamo nella zona dei poliziotti Prendi immediatamente un fucile a pompa Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio No, me l'ho chiuso fuori Si è chiusa la porta Mi devi aprire Aspetta Mi devi aprire Fede Se no, no, ti posso aiutare Fede attenta perché più di gente mi hanno incastrato Sei entrata? No, continuo a incastrarmi Non riesco a entrare Porca miseria C'è troppa gente Prendo un fucile a pompa Lo ammazzo Perché c'è di nuovo il polizzo tutto dentro Ok, ok, ok Uh, ucciso Aspetta che uccida anche l'altro Entra Arrivo, arrivo Togliti Attenta ai poliziotti, eh Ok Attenta ai poliziotti Allora, voglio un fucile Questo, questo, questo Dannazione Ma perché però possono tornare in vita proprio qua? Così è impossibile Eh, però aspetta Adesso ci sono pure io Mi dai una mano? Sì Eccomi Vero, aiuto Lo sto ammazzando Mi vuole amalettare È un pazzo sto poliziotto No, no, è pazzo, è pazzo E vabbè, giustamente Schiazza Ok, ok, ok Essi, 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 essi Ti rubo anche la pistola Togliti, togliti Aspetta Aprimi Vai Che ansia Vieni Bravi Prendiamo la macchina della polizia Prendiamo la macchina della polizia Ok, vai, 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 vai È suonato l'allarme, è suonato l'allarme Che emozione Ok, sali Ok, ci sono, ci sono, ci sono Guardalo ancora, il poliziotto è un pazzo Non dè morte Criminale Ok, l'ho riuscito, l'ho riuscito Mamma mia, ma che criminale Sali Poveraccio, sto cercando di fare il suo lavoro e noi continuiamo a ucciderlo Allora Ok, si sta aprendo Via, 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 via Siamo liberi Adesso possiamo correre, nascondirci, rapinare banche Sì Quindi la città è super interattiva Possiamo fare un sacco di cose Esattamente Andiamo a rapinare una banca? Dai che bello, andiamo a rapinarla Grazie, vero? Allora, compriamoci una casetta, facciamoci qua Se ne ha corto? No, 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 non se ne ha corto, non se ne ha corto Come si accendono le sirene? Così sembriamo... Siamo poliziotti Tutti tranquilli Guarda cosa tutto posso fare Ho visto adesso i tasti Posso fare le shiftate Poi Le driftate Senti il clacson? Sì, lo sento Poi posso fare il bagliore Accendere la radio E infine con F le sirene Ok, allora, dobbiamo trovare una banca Allora, banca c'era scritto in gigante Tipo bank E dobbiamo rivedere la scritta Perché era abbastanza evidente Ok, però un attimino, vieni con me Dove? Non c'è nessuno in zona? No, ok Questa qua, secondo me, è un'altra base dei poliziotti Ok E infatti Aspetta un po', una bella pistola Allora Un altro fucile Fucile otta pompa La divisa non si può rubare Purtroppo non possiamo far finta di essere poliziotti Però Peccato quello Al pieno di sopra cosa c'è qua? Perché magari hanno nascosto qualcosa di ancora più raro Ci poteva essere l'elicottero Peccato No, peccato Però li ho visti qualcuno Infatti in giro con l'elicottero Quindi sicuramente l'hanno appena 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 preso Sarebbe stato bello Sarebbe stato bello Non c'è un tasto per farlo riapparire Allora, in Most Wanted ci sono io e non ci sei tu Cioè li ho uccisi Vieni a vedere Vieni Fere Io i poliziotti Guarda Te l'ho detto È questione di faccia Io la faccia Ahia Fere dai non ammazzarmi Che siamo arrivati qua dopo tanta fatica È proprio Andiamo a fare una rapina così Io te l'ho detto che Roblox ce l'ha con me Che è un complotto contro di me Io l'ho già detto dallo scorso episodio E continuo a dirlo Sali macchina Vieni È notte Ho visto E questa è quella banca Ma me l'aspettavo un po' più Ma non è che è chiusa Vieni Vieni Guarda Opla Closed Non si apre Non è chiusa Perché è chiusa Proviamo a fare il giro Magari c'è una porta nascosta No è semplicemente chiusa E forse non ci puoi entrare quando è chiusa Non ha molto senso Però Ecco ho trovato la porta Avevo ragione io Ma non si apre lo stesso Porca miseria Allora Togliti Ci sei No Togliti Si fa così No Non funziona Non funziona Di solito si fa così Allora Ragioniamo Siamo persone intelligenti Se con la chiave Da poliziotti Non si può Entrare Servirà un'altra Chiave No secondo me no Perché abbiamo ucciso Il poliziotti Un sacco di volte La chiave è solo quella Vediamo questo qua È arrivato un tipo Ha una chiave anche lui Ma non si apre Forse è perché è notte Forse dobbiamo aspettare Che diventi di nuovo Vedi Dobbiamo aspettare Ok amico Ok Perfetto Però Fidati di me Nascondiamoci Ok E aspettiamo il giorno E poi andiamo impavidi A rapinare la banca Esatto Esatto Guardati dove ci fermiamo Adesso ti faccio vedere Aspetta che è un po' difficile Guidare la macchina Ok dove vuoi andare Allora Noi ci nascondiamo In questo vicoletto qua Ah Ok Proprio dietro la banca Esatto Ok Tu controlla bene Se arrivano in ogni caso Siamo armati Esatto Siamo due Esatto A meno che non arrivano in massa Ne arriverà solo uno Quindi dovremmo riuscire a cavarcela Sì Speriamo bene Non ho capito Nel mentre che aspettiamo Che cos'è Quella cosa lì a sinistra Che ha la forma della banca Fede c'è un problema Dimmi Adesso è giorno Probabilmente la banca è aperta Ma è pieno Zeppo di poliziotti Ascolta E se entriamo lì dal retro Senza farci vedere Probabilmente ce l'ho anche visto Probabilmente ce l'ho anche visto Allora Lasciamo la macchina parcheggiata qua Esatto Prepara il fucile Ok Caricalo E prepariamoci Prima persona Tu controlla lì dietro E io controllo qua davanti Aspetta aspetta Lo vedi Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Allontanati Allontanati Fai in modo che lui venga da noi Ok No ma ha fatto Mi sa che è ritornato in macchina Non capisco bene Ok sì perché secondo me Voglio venire con la macchina Apro Non si apre Ma dai Come si deve aprire Sti accidenti di porti Forse è ancora troppo presto Scappa 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 Via 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 Allora Io mi sembra nascosto Continua a non vederci Cioè vabbè No 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 C'hanno visto Pronta a sparare Lo sto sparando L'ho circondato Ok è morto Ok è morto No ti ha manettato C'identi Fere No No Uccidi l'altro da parte mia No Disgraziati Non mi toccare con quelle monete Ok Mi ha ucciso un altro Mi ha ucciso un altro Ipoiziotto Lo sto circondando Non mi ha neanche visto Pum 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 Ucciso No Ma come Ma No è arrivato quello dell'altra volta Te lo ricordi il pazzo Che ti dava problemi in tutti i modi Ah di nuovo Sì è arrivato Allora dove sei E mi ha manettato Sai che Sei rimasto un criminale Non mi ha fatto tornare in prigione a me Non so come sia possibile Complotto contro Ferenichi Io lo dico Fere Lo dico Ma dai Tutte a me le sfortuna Sono entrato con un bandito Arrivo 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 Sono entrato con un bandito dentro la banca Sta aprendo le porte Non so dove sta andando Ma sto per appinare la banca Allora Buonissimo Eugenia de derroberi Ok 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 È suonato l'allarme È suonato l'allarme È suonato l'allarme Non so cosa devo fare C'è un parkour Ma davvero Allora provo Ui Ho già preso Ho perso già vita Ok Abbassati Abbassare Arriva amico Arrivo 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 Che figata Che parte si è entrata Perfetto Voglio vedere E adesso cosa dobbiamo fare amico Sta piazzando il C4 Ma siamo pazzi Ma non ci fa male No Ok 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 150 200 250 300 Oh mamma mia C'è la polizia C'è la polizia E c'è sempre quello pazzo È sempre lui Sempre lui L'ucciso 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 Più sto qua Più soldi prendo Quindi più cerco di resistere Bello 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 Più soldi mi porto a casa Sono già mille dollari Devo scappare dalla banca adesso Allora Ui Ok Mi abbasso Mi abbasso Mi rialzo Salto Salto Ok Fucì la pompa Ce l'hai fatta Quasi Devo fuggire Devo fuggire E credo che ci sia la polizia qua fuori Quindi è un bel problema Allora Scappiamo 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 Allora Fatto Mi sono portata a casa 2250 Ottimo Ottimo 2500 dollari Giusti giusti Per aprire la cassaforte La quarta Quindi Solo una Ne esiste di più rara Compro e vediamo cosa trovo Allora Vai 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 Open safes Open Non so neanche che cosa sono Ma sono tutte cose per la macchina Io non l'ho capito bene Credo di sì Adesso andiamo anche a vedere Allora Ok Mi hai trovato un'altra leggenda Arriva Apri 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 Che è la più rara in assoluto Dai qualcosa di bello Dai qualcosa di bello Dai qualcosa di bello Purple Indie È qualcosa di rarissimo Ma andiamo a vedere se sono qualcosa per la macchina Andiamo un attimo nel garage al volo E vediamo di cosa si tratta Ok Allora salgo su questa macchina Amico Spostati Uuuuh No bello Dai carina come cosa Molto bello poi col colore Super tamarro Tra bella Bellissima Bellissima Bella 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 Quindi quello che ho guadagnato Scappando dalla prigione Rubando in una banca È una modifica della macchina Che mi fa diventare troppo troppo figo E Fereniki invece È morta Poverina No non è morta Non è che sono morta Cioè Eh non sei arrivata C'ho l'intero universo contro di me Quindi non sono riuscita A finire la bapola Bella drammatica No perché dai Mi arrestano Arrestano anche te Io ritorno nella prigione E tu invece stai fuori E già questa cosa Non è molto normale Poi c'è il poliziotto che ti aiuta E mi ammazzano Cioè Perché le persone Se ti sto aiutando Sono geniali E mi ammazzano E vabbè Tutto il mondo è contro di me Comunque Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso di tanti like Sondaggino Commenti eccetera eccetera E ci fermiamo così Bene che se non esiste così Lasciateci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare I dati iscriviti per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao